Dopo le ultime notizie di cronaca, indubbiamente si viaggia un attimino con un pochino più di tensione. Torna a preoccupare l'AE45 dopo la chiusura preventiva disposta dalla polizia stradale di Bagno di Romagna dello svincolo di Canili. Alla base del provvedimento ci sarebbe la comparsa di crepe su alcuni travi del cavalcavia. La chiusura è stata disposta per effettuare così alcune verifiche tecniche. Il ponte in questione si trova a confine tra l'Emilia Romagna e la Toscana, subito dopo la fine del territorio della provincia di Arezzo. Insomma, non è che uno viaggia tranquillamente, però è costretto a farla, perciò... Ora, paura, proprio paura, no, però uno ci pensa, diciamo... Ma a preoccupare chi percorre l'AE45 non sono unicamente le condizioni del viadotto, ma l'intera viabilità della superstrada. Sempre disastrata, sempre lavoro in corso, sì, non è eccezionale. Intanto non è che dia grandi garanzie a vedere sempre queste riparazioni continue, fa pensare che qualcosa che non vada nel fondo ci sia. Abbastanza disastrate, anche se leggermente meglio rispetto a qualche anno, qualche mese fa. Intanto, a quasi due mesi di distanza dall'arrivo dell'avviso di chiusura indagini con l'accusa di attentato alla sicurezza, a breve saranno ascoltati dal procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi cinque dirigenti dell'ANAS indagati sul dissesso della E45. Sono stati infatti alcuni degli accusati a chiedere, nell'arco dei 20 giorni previsti dalla legge in seguito all'avviso, di essere interrogati per chiarire così la loro posizione. Grazie a tutti.